Teresa Revisore 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 Sono io a parlare e quindi non sembrerà Ma in fondo è la storia di un crimine atroce Io sono l'amica di tutti i messicani Potrei dire, sono la madre della poesia messicana Ma è meglio che non lo dica Io conosco tutti i poeti e tutti i poeti mi conoscono Perciò potrei dirlo Potrei dire, sono la madre cui soffia da secoli un zepero del cazzo Ma è meglio che non lo dica Potrei dire, per esempio Ho conosciuto Arturito Bellano quando aveva 17 anni E era un ragazzino timido Che scriveva opera di teatro e poesia E non sapeva bere Ma sarebbe in qualche modo una divagazione E mi hanno insegnato Con la frusta, me l'hanno insegnato Con una bacchetta di ferro Che bisogna evitare le redondanze E restare in tema Quello che invece posso dire è il mio nome Mi chiamo Auxilio Laculture E sono uruguaiana A città del Messico per la precisione Che è una delle città più grandi del mondo Negli anni 50 Ha raddoppiato il numero dei suoi abitanti E adesso, siamo nel 1968 Ospita 8 milioni di persone E continua a crescere Il premio Nobel Octavio Pass regna come sovrano assoluto Sul mondo letterario Con tutto il peso dell'establishment governativo Ma la scena underground è molto vivace Si moltiplicano le riviste di poesia I corsi di scrittura Di spettacoli teatrali Le presentazioni di libri Le librerie sono frequentatissime Specie quelle di seconda mano È il 1968 E anche i giovani messicani Sognano un mondo migliore Si susseguono le manifestazioni di protesta Il 27 agosto Oltre 200.000 studenti scendono in piazza Nello Socalo Il cuore antico della città L'indomani In un clima di tensione crescente Vengono dispersi dalle baionette dei soldati Il 7 settembre Nella piazza di Tratelolco Si tiene l'affollatissima manifestazione delle torce Il 13 settembre Con la marcia del silenzio 300.000 persone sfilano per protesta Con le bocche imbavagliate Sui viali della città In questo clima elettrico Arriva nel quartiere Lindavista Uno degli infiniti quartieri Di una città infinita Un ragazzino 14enne Che si chiama Roberto Bolagno È nato e cresciuto in Cile In aperta campagna Nella zona di Valparaíso I genitori Leon Bolagno Camionista E Victoria Avalos Insegnante Hanno una relazione tempestosa E si sono trasferiti Nella capitale messicana Con i figli Roberto appunto E sua sorella Salomè Per iniziare una nuova vita Di lì a non molto I due si separeranno Roberto passa tutto il giorno a leggere Vuol diventare un poeta Spiegherà in un'intervista Mio padre non ha fatto solo il camionista È stato anche campione Dei pesi massimi Del Cile meridionale Come pugile professionista Davanti a quell'uomo Non avevi scelta O eri più forte di lui O passavi direttamente All'omosessualità Se fosse dipesso da me Sarei passato direttamente All'omosessualità Che mi sembra un magnifico Sbocco estetico Ma non era nella mia natura Sono eterosessuale A quel punto Mi restavano solo Il cinema e i libri E in sostanza Da ragazzino Mi sono dedicata A guardare un sacco di film E a leggere un sacco di libri E a cercare di uccidere mio padre È chiaro Mio padre Naturalmente Ma sembra voluto un gran bene Come ogni padre Roberto Bolagno Diventerà non solo un poeta Ma il più importante scrittore Di lingua spagnola Della sua generazione Susan Sontag Dirà di lui Che soltanto García Márquez Gli sta a pari Ma non dobbiamo correre troppo È ancora il 1968 Il 18 settembre Al mattino Muore il poeta Spagnolo Esule Repubblicano Leon Felipe Alle 10 di sera L'esercito messicano Con decine di carri armati Una brigata di fanteria Il dodicesimo reggimento di cavalleria Un battaglione di paracadutisti Una compagnia del battaglione Olimpia Due compagnie del secondo battaglione di genieri E un battaglione di guardie presidenziali Insomma Diecimila soldati Occupa l'Università nazionale del Messico I soldati picchiano e trascinano via studenti e professori Dalla finestra di uno dei bagni Al secondo piano della facoltà di lettere e filosofia Una donna osserva la scena spaventata Si chiama Alsira Soust Scaffo Ha 44 anni Ed è una poetessa uruguayana Alta Grandi occhi verdi Un'aria da attrice neorealista italiana È stata molto bella Adesso è segnata da una vita difficile Non ha paura solo della violenza dei soldati Non ha i documenti in regola E teme di essere rispedita in Uruguay È nata a Durasno Nel 1924 Terza di tre sorelle E ha studiato da maestra Negli anni 40 Ha insegnato in zone rurali Ha fondato biblioteche E creato orti scolastici Nel 1952 A 29 anni Arriva in Messico A Pasquaro nel Michoacan Con una borsa di studio dell'UNESCO Per specializzarsi Al centro di cooperazione regionale Per l'educazione degli adulti In America Latina E nei Caraibi Crefal Alla fine della borsa Decide di fermarsi Lavora con le comunità indigene Nel 54 Si trasferisce nella capitale A Città del Messico Fa volontariato all'ospedale pediatrico E collabora intensamente Con l'Istituto Latinoamericano di Cinematografia Negli anni 60 Diventa assistente di Rufino Tamagio Nella realizzazione di un murale Dualidad Al Museo Nazionale di Antropologia E poi lavora Alla radio dell'Università Nazionale del Messico Con Juan José Arreola Traduce e adatta racconti per ragazzi E Emilio Prados Poeta spagnolo Della generazione del 27 Esule anche lui a Città del Messico Che la incoraggia a scrivere i primi versi Al Sira si è sposata con un medico della Croce Rossa Ma dopo pochi anni si è separata Adesso vive facendo mille lavoretti all'UNAM Per esempio traduzioni dal francese Ma anche cose molto più umili Spesso non ha i soldi per affittarsi una camera Quindi dorme dove capita Da amici In facoltà Per strada Per Al Sira la poesia è una forma di vita E al tempo stesso un modo di cambiare il mondo Ecco perché ciclostila le sue poesie E anche traduzioni di poeti francesi Come Baudelaire, Rimbaud, Eloise, L'Otraumont Che poi distribuisce come fossero volantini Insieme a fiori In giro per l'università Alle marce di protesta degli studenti E anche agli scioperi È un progetto artistico che chiama Poesia en armas Poesia armata Crea anche grandi cartelloni colorati Con calligrammi Usando matite, pastelli, acquerelli Materiali vari Inventandosi una sorta di alfabeto calligrafico Composto da segni siderali, vegetali, frecce In cui si coglie l'influenza di Tamagio E anche di Miró E infine fa nascere un giardino all'università Dedicato a Emiliano Sapata Dove pianta alberi in onore di poeti morti O come simbolo dei valori che difende La poeta Margarita Castiglio Ricorda come li battezzava uno per uno Dava un nome a ciascuno E come li concimava coi suoi versi Scrive Bolagno dei poeti underground di quegli anni Accettavamo di vivere con pochissimo Non avendo mezzi Eravamo molto spartani Ma al tempo stesso eravamo ateniesi e sodomiti Perché ci godevamo i piaceri della vita Eravamo poveri ma lussuriosi Essere un poeta voleva dire allo stesso tempo Essere rivoluzionario E restare completamente aperto A qualsiasi manifestazione culturale A qualsiasi espressione sessuale Insomma aperto a tutto Anche a qualsiasi esperienza con le droghe Era una tolleranza Più che una tolleranza Parola che non ci piaceva molto Era una fratellanza universale Una cosa totalmente utopica Al Sira resterà chiusa nei bagni dell'UNAM Per dodici giorni Bevendo acqua del rubinetto Senza mangiare E leggendo poesie di Leon Felipe Le truppe lasciano la città universitaria il 30 settembre E Al Sira viene ritrovata mezza morta nei bagni dal poeta Bonifaz Nugno Ma si è salvata dai soldati E diventa così un simbolo di resistenza Un mito per gli studenti messicani Dopo aver trascorso un mese in ospedale per recuperare le forze Torna alla sua vita Riprende a scrivere versi A partecipare a manifestazioni di proteste e a scioperi Scampando sempre all'arresto Un paio d'anni dopo l'occupazione dell'università Al Sira e Bolagno diventano amici Lui è un ragazzino timido di 17 anni Scrive operi di teatro Che poi, più tardi, darà alle fiamme E poesie Lei non è solo una poetessa Come dicevamo, è amica di tanti esuli repubblicani spagnoli Come Leon Felipe, Pedro Garfias, Remedio Svaro Maria Sanbrano, Emilio Prados Con cui condivide una condizione di sradicamento È amica anche di scrittori messicani noti Come Juan José Arreola e José Revueltas Ma soprattutto è una sorta di ponte fra le generazioni Perché è la madre dei giovani poeti messicani Così la chiamano tutti Al Sira legge i loro manoscritti Li discute Gli suggerisce quali libri leggere Fa le ore piccole insieme a loro a parlare di letteratura Nei bar di città del Messico Come il Caffè La Havana di Cagli e Bucareli E forse, come Auxilio Anche Al Sira qualche volta va incestosamente a letto con loro Questa figura femminile così forte Così libera Così orgogliosa Così dedita alla sua arte e al suo impegno civile Non viene dimenticata Molti anni dopo Bolagno Che ha ormai lasciato il Messico e vive in Catalogna Le dedicherà un capitolo dei Detective Selvaggi Il grande romanzo, il capolavoro In cui racconta la sua giovinezza Il mondo underground dei poeti del DF Le sue avventure di infrarealista Il movimento poetico che fonda con l'amico Mario Santiago Ispirandosi a Rimbaud Al surrealismo francese Ai beatnik americani E all'antipoesia del connazionale, del cileno, Nicanor Parra Roberto Bolagno in seguito definirà l'infrarrealismo Una specie di dadà alla messicana Gli infrarrealisti sono Nec spes, nec metus Coloro senza speranza e senza paura E marginati da un sistema conservatore e familistico Come quello della cultura messicana Si fanno ben presto conoscere Contestando tutti i poeti dell'establishment Compreso Octavio Paz Boicottando le loro presentazioni in pubblico Diventano il terrore di tutti Naturalmente vengono messi al bando Naturalmente nessuno li pubblica E tuttavia L'esperienza umana e artistica dell'infrarrealismo Non solo confluirà nell'università sconosciuta La summa di tutta la poesia di Bolagno Che a ottobre uscirà Fra poco uscirà in italiano da sur Ma andrà a costituire il nucleo creativo Di tutta la sua opera Narrativa compresa La poesia di Bolagno Irrompe nella sua prosa All'improvviso È lo scarto inatteso L'espressione imprevedibile L'immagine surreale Una specie di tempesta elettrica Nel cielo notturno Per usare un'immagine ricorrente Nei suoi romanzi Scrive Roberto Bolagno Io fondamentalmente sono poeta Ho cominciato come poeta Quasi sempre ho creduto E continuo ancora a crederlo Che scrivere prosa È di pessimo gusto E lo dico sul serio Bolagno ha più volte raccontato Come solo la nascita del primo figlio Lautaro A cui poi seguirà Alexandra Lo avesse spinto a scrivere prosa Nel tentativo di fare della sua arte Anche un mestiere Al Sira Nei Detective Selvaggi Prende il nome di Auxilio Lacotur Ed è un personaggio talmente affascinante Che Bolagno decide di dedicarlo Un libro intero A Muleto Bolagno definirà Muleto Un romanzo intimista La solo di una voce Senza contrapunto Una voce che spesso suona delirante Perché si sposta continuamente Avanti e indietro Nello spazio e nel tempo Il bagno da cui Auxilio parla Diventa come la cantina Del racconto di Borges L'Alef Un punto nascosto dove si trovano Tutti i luoghi della terra Visti da tutti gli angoli E Auxilio ricorda senza distinzione Il suo passato e il suo futuro E il passato e il futuro Dei giovani latinoamericani La storia Raccontata da Auxilio in a Muleto È un racconto del terrore Dove il terrore arriva dalla storia Con la S maiuscola E dove il peggio I drammatici avvenimenti Che seguiranno all'occupazione Dell'università Si manifestano sotto forma di metafora Sogno Delirio Dopo l'occupazione militare Dell'università Gli studenti si radunano di nuovo In protesta nella piazza di Tratelolco È il 2 ottobre 1968 E il presidente del Messico Gustavo Díaz Ordaz Dà ordine all'esercito Di sparare sulla folla Cadono centinaia di ragazzi Il numero esatto non si è mai saputo I corpi vengono portati via Con i camion della spazzatura Anche Oriana Fallasce Che assiste come giornalista Viene ferita da tre colpi d'arma da fuoco Creduta morta Finisce all'ubitorio Colpisce che già nel 1521 Nella stessa piazza Il conquistatore spagnolo Hernán Cortés Con i suoi soldati Aveva massacrato 40.000 indigeni Segnando la fine della civiltà asteca La strage di Tratelolco Segna parallelamente La fine delle speranze Dei giovani messicani Auxilio Come avete sentito commenta Qui soffia da secoli Uno zefiro del cazzo La violenza Con cui vengono soffocate Le speranze di un mondo migliore Prefigura tragicamente Quello che avverrà Di lì a poco in Cile E poi in tutta l'America Latina Golpe Golpe Guerra sporca Desaparecidos Esilio Nel 73 Bolagno Ventenne Abbandona la sua boe messicana Per correre a sostenere Il governo di Salvador Allende In Cile Al Sira Che in quel periodo Vive a casa sua Ospite della famiglia Lo accompagna alla corriera E la sera Cerca in vano Di rasserenare la madre Il ragazzo Attraversa Avventurosamente Tutta l'America Latina A 19 anni Tutta l'America Latina Un viaggio lungo Infestato di pericoli Scrive Bolagno Il viaggio iniziatico Di tutti i poveri Ragazzi latinoamericani Attraversare Questo continente assurdo Che capiamo a stento Che non capiamo per nulla Ironia della sorte Arriva a Santiago Giusto in tempo Per il golpe E viene arrestato Per fortuna Trova tra i poliziotti Due vecchi compagni di scuola Che lo lasciano scappare O così vuole la leggenda Quando rientra in Messico È senza documenti Consumata rapidamente L'esperienza Dell'infrarialismo Che gli ha fatto Terra bruciata attorno Abbandonato dal suo Grande amore di gioventù Lisa Johnson Che si è stancata Della Bohème Bolagno decide Di emigrare a Barcellona Dove si è già Trasferita la madre È il 1977 Ha 24 anni La sua vita Da Barcellona Gerona Blanes In Costa Brava Sarà a lungo Come quella di Auxilio E di tanti altri esuli Mille lavori saltuari Mille difficoltà Che nel suo caso Si accompagnano A tanta scrittura Matta e disperatissima In cui Bolagno Racconta la sconfitta Di un progetto Di vita diverso Di un mondo più giusto L'esistenza che ci racconta Bolagno Prima fra tutte Quella di Auxilio Al Sira Sono piene di speranze Di fallimenti I buoni Non vincono Nell'opera di Bolagno I buoni Vanno Faticosamente In direzione Opposta alla storia La sua È una letteratura Di perdenti Per perdenti Di sradicati Per sradicati Di precari Per precari In cui Come dice Nicola La Gioia Molti di noi Travolti Dalla crisi Non solo Economica Dell'Occidente Si riconoscono Più che in quella Di maestri Come Philip Roth O David Foster Wallace Negli anni Settanta Al Sira Comincia a soffrire Di gravi disturbi Nervosi Il suo equilibrio Psichico e compromesso Sono le conseguenze Dello shock Che ha vissuto Quando ha qualche motivo Di stress Si chiude in bagno E non vuole uscire La vita di Al Sira Si fa sempre più marginale Più precaria Perde i denti davanti E parla Nascondendosi la bocca Con la mano Dimagrisce Diventa la versione Femminile di Don Quixote Bolagno la perde di vista Intorno al 1976 Quando parte per l'Europa Nell'88 Dopo 36 anni In Messico L'UNAM Fa rientrare Al Sira Montevideo Perché la sua famiglia Possa prendersi cura di lei Bolagna anni dopo Avrà sue notizie Da un professore Della UNAM Le condizioni di salute Erano così peggiorate Che era stata internata Al Sira Viene a mancare Il 30 giugno 1977 Ed è seppellita In una fossa comune Ma come raccontano All'UNAM Che due anni fa L'Università Nazionale Del Messico Che due anni fa Le ha dedicato Una bella mostra Il grande albero Di Iacaranda Da lei piantato Alla facoltà di psicologia È oggi enorme E continua a fiorire E così arrivai al 1968 O il 1968 Arrivò a me Io ora potrei dire Che me lo sentivo Potrei dire Che ebbi un atroce presentimento E che non mi colse di sorpresa Lo indovinai Lo intuì Lo sospettai Lo fiutai Fin dal primo minuto di gennaio Lo presagì E lo subodorai Fin da quando Si ruppe la prima E l'ultima pentolaccia Di quell'innocente gennaio In festa E come se non bastasse Potrei dire Che ne sentì L'odore Nei parchi E dentro Ai bar Nel febbraio O nel marzo Del 68 Avvertì La sua Quiete Sopranaturale Nelle librerie E davanti alle bancarelle Che vendevano spuntini Mentre mangiavo Un tacco di carne In piedi In Caglie San Il Defonso Contemplando La chiesa di Santa Caterina Da Siena E il crepuscolo messicano Che vorticava Come in delirio Prima che il 68 Diventasse davvero Il 68 Quando ci penso Mi viene da ridere Mi viene voglia Di piangere Sto già piangendo E che io Ho visto tutto E al tempo stesso Non ho visto nulla Si capisce Cosa intendo dire? Io sono la madre Di tutti i poeti E non permisi O il destino Non permise Che l'incubo Mi abbattesse Le lacrime Ora mi scorrono Sulle guance devastate Io ero in facoltà Quel 18 settembre Quando l'esercito Violò l'autonomia universitaria Ed entrò nel campus Ad arrestare E ad ammazzare tutti No No Lì non ci furono Molti morti Fu a Tlatelolco Che quel nome Resti impresso Per sempre Nella nostra memoria Ma Io ero in facoltà Quando l'esercito E i reparti Antisommossa Entrarono E portarono via Tutta la gente a forza Una cosa Incredibile Io ero Alla toilette Nei bagni Non so di quale piano Della facoltà Il quarto Mi pare Ma non sono sicura Ed ero seduta Sul water Con la gonna Tirata su Come dice la poesia O la canzone A leggere I versi Delicatissimi Di Pedro Garfias Che era già morto Da un anno Don Pedro Così malinconico Così triste Per la Spagna E per il mondo In generale Chi l'avrebbe mai Immaginato Che mi sarei trovata A leggerlo Alla toilette Proprio nel momento In cui quelle teste Di cazzo Dei reparti Antisommossa Entravano Nell'università Secondo me Concedetemi Questo inciso La vita È piena Di cose enigmatiche Piccoli avvenimenti Che aspettano Solo un contatto Epidermico Il nostro sguardo Per scatenare Una serie Di conseguenze Che poi Viste in prospettiva Non possono Che ispirarci Stupore O spavento In effetti Grazie a Pedro Garfias Grazie alle poesie Di Pedro Garfias E al mio Inveterato vizio Di leggere In bagno Io fui L'ultima Ad accorgersi Che erano arrivati I reparti Antisommossa Che l'esercito Aveva violato L'autonomia universitaria E che mentre Le mie pupille Seguivano i versi Di quello spagnolo Morto in esilio I soldati E i reparti Antisommossa Arrestavano E perquisivano E picchiavano Chiunque si trovassero davanti Senza riguardi Per il sesso O l'età Lo stato civile O la posizione acquisita O regalata Nell'intricato mondo Delle gerarchie universitarie Diciamo che Sentì Un rumore Un rumore Nell'anima E diciamo che Poi il rumore Crebbe E crebbe E alla fine Prestai attenzione Quel che succedeva Sentì che qualcuno Tirava lo sciacquone Di un water Vicino Una porta sbattè Passi nel corridoio E il clamore Che saliva Dai giardini Da quel prato Così curato Che circonda La facoltà Come un mare verde Intorno a un'isola Sempre pronta Le confidenze E all'amore E allora La bolla Della poesia Di Pedro Garfias Fece pof E io chiusi il libro Mi alzai Tirai la catena Apri la porta Feci un commento A voce alta Dissi Ehi Che sta succedendo Là fuori Ma nessuno rispose Tutte le presenze Della tua letta Erano sparite Dissi Ehi C'è nessuno Sapendo già in anticipo Che nessuno Mi avrebbe risposto Non so Se conoscete Quella sensazione Una sensazione Da film dell'orrore Però non di quelli Dove le donne Sono stupide Di quelli dove le donne Sono intelligenti E coraggiose O dove c'è almeno Una donna intelligente E coraggiosa Che all'improvviso Si ritrova sola Che all'improvviso Entra in un edificio Deserto O in una casa Abbandonata E chiede Perché lei non sa Che il posto In cui si è cacciata È abbandonato Se c'è qualcuno Alza la voce E chiede Anche se in realtà Nel tono con cui fa la domanda È già implicita La risposta Ma lei chiede lo stesso Perché? Perché sostanzialmente È una donna educata E noi donne educate Non possiamo fare a meno Di esserlo In ogni circostanza In cui la vita ci metta Così Lei resta immobile O magari fa qualche passo E chiede Ma nessuno Chiaramente Le risponde È così Che mi sentì Come quella donna Ma non so Se me ne resi conto subito O se l'ho capito adesso E feci Anch'io qualche passo Come se fossi stata Su un'enorme distesa Di ghiaccio E poi Mi lavai le mani Mi guardai allo specchio Vedi una figura alta E magra Con qualche rughetta Già troppe sul viso La versione femminile Di Don Quixote Come mi aveva detto Una volta Pedro Garfias E poi Uscì nel corridoio E là invece Mi accorsi Subito Che stava succedendo qualcosa Il corridoio Era vuoto Sprofondato Nelle sue sbiadite Tinte crema E le urla Che salivano Dalle scale Erano di quelle Che stordiscono E fanno storia Cosa feci allora? Quello che avrebbe fatto Chiunque Mi affacciai A una finestra E guardai giù E vidi i soldati E poi mi affacciai A un'altra finestra E vidi Le autoblindo E poi a un'altra Quella che è in fondo Al corridoio Attraversai il corridoio Con salti da oltre tomba E vidi I cellulari Su cui i reparti Antisommossa E qualche poliziotto In borghese Stavano caricando Gli studenti E i professori Arrestati E poi vidi Un gruppo di segretarie Fra le quali Mi sembrò Di riconoscere Qualche amica In realtà Mi sembrò Di riconoscerle tutte Che uscivano In fila indiana Sistemandosi i vestiti Con le borsette in mano O alla spalla E poi vidi Un gruppo di professori Che usciva Anche quello Ordinatamente O almeno Quanto lo consentivano Le circostanze Vidi gente Con dei libri in mano Vidi gente Con delle cartelline E pagine Battute a macchina Che volavano per terra E loro si chinavano A raccoglierle E vidi gente Che veniva Trascinata fuori E gente Che usciva Dalla facoltà Coprendosi il naso Con un fazzoletto Bianco Annerito In fretta Dal sangue E allora mi dissi Rimani qui A auxilio Non lasciare Che ti arrestino Rimani qui A auxilio Se ti vogliono Sbattere dentro Bambina mia Che si diano Garfias Si lettura Altri La maggior parte No Ed ero lì Tutta presa Quando all'improvviso Sentì un rumore Nel corridoio Un rumore Di scarponi Un rumore Di scarponi Chiodati E mi dissi È una bella Coincidenza Non ti pare Rumore Di scarponi Chiodati E mi dissi Ora ci manca Solo il freddo E che mi cada Un basco Militare In testa E poi sentì Una voce Che diceva Tutto a posto Signor Sergente O qualcosa Del genere E cinque secondi Dopo Qualcuno Forse lo stesso Stronzo Che aveva parlato Apri la porta Dei bagni Ed entrò E io Poveretta Sentì Qualcosa di simile Al mormorio Che fa il vento Quando arriva E passa Tra fiori Di carta Sentì Una vibrazione D'aria D'acqua E sollevai Silenziosamente I piedi Come una Ballerina Di Renoir Come se stessi Per partorire In qualche modo In effetti Mi accingevo A dare la luce Qualcosa E a venire Io stessa Alla luce Con le mutande Come manete Sulle cavili magri Agganciate A un paio Di scarpe Che avevo Allora Dei mocassini Gialli Comodissime E mentre aspettavo Che il soldato Controllasse I cesse Uno per uno E mi disponevo Moralmente Fisicamente A non aprire A difendere L'ultimo baluardo Di autonomia Della Università Nazionale Autonoma Del Messico Io Una povera Poetessa Uruguaiana Che però Amava il Messico Come nessun altro Mentre aspettavo Dicevo Cade un silenzio Particolare Un silenzio Che non compare Né sui dizionari Musicali Né sui dizionari Filosofici Come se il tempo Si frantumasse E corresse In più direzioni Alla volta Un tempo puro Né verbale Né composto Da gesti O azioni E allora Vidi Me Stessa E vidi Il soldato Che si guardava Rapito Allo specchio Le nostre due Figure Incassate In un rombo Nero O Immersi In un lago Ed è mio Un brivido E lascio Perché Capì Che ero Momentaneamente Protetta Dalla legge Della matematica Perché capì Che le tiraniche Legge del cosmo Che si oppongono A quelle della poesia Mi proteggiavano Che il soldato Se sarebbe Guardato Rapito Allo specchio Io lo avrei sentito Io lo avrei immaginato Altrettanto Rapita Nella singolarità Del mio eccesso E che a partire Da quell'istante Le nostre due singolarità Avrebbero Costituito Le due facce Di una moneta Atroce Come la morte Per farla breve Il soldato Io restavano immobili Come statue Nei bagni delle donne Al quarto piano Della facoltà De lettere e filosofia Tutto qui Poi Sentì I suoi passi Che si allontanavano La porta Che si chiudeva E allora Le mie gambe Sollevate Come se Descedessero Da sole Tornarono A loro posizione Deprima Il parto Si Era concluso Rimasi così Cerca tre ore Secondo i miei calcoli Só che Cominciava A fare note Con l'uscita Al cesso Avevo Le estremità Intorpidite Avevo Un sasso Sullo estomac Un dolore Al petto Avevo Come un velo O una garza Sulle occhi Avevo Dei ronzi D'apio Vespo Calabroni Nell'orecchio Nella testa Avevo Una specie Di agitazioni E al tempo Stesso Voglia Di dormire Ma la verità È che Io era Più Sveglia Che mai La situazione Era nuova Lo ammetto Ma io Sapevo Cosa fare Io Sapevo Qual era Il mio Dovere Così Mi arrampicai Sull'unica Finestra Della Toilette E guardei Fuori Vedi un Soldato Perso In lontananza Vedi La sagoma D'un auto Blindo L'ombra D'un auto Blindo Anche poi Se mi Misse a Riflettere E forse Quello Che avevo Visto Era L'ombra D'un Albero Come Il portico Della Literatura Latina Come Il portico Della Literatura Greca Come mi piace La literatura Greca Da Safo A Giorgio Zepheris Vedi Il vento Che attraversava L'università Come Se Si Godesse Le Ultime Luce Del Giorno E capì Cosa Dovevo Fare Lo Capì Capì Che Dovevo Resistere Così Mi Sedete Sulle Piestrali Del Banio Delle Donne E Approfittai Delle Ultime Raggio De Soli Per Leggere Altre Tre Poesie De Pedro Garfias E poi Chiusi Il libro E chiusi Gli occhi E mi Disse Auxilio La Cultura Città Uruguaiana Latino Americana Poetessa E Viaggiatrice Resisti Solo Questo E poi Mi 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 A Pensare Al Mio Passato Come Penso Adesso Al Mio Passato Poi Andare Indietro Con Le Date Ser U Per Rombo Nell Espacio Della Ipotetica Disperazione Le Le Imagen Salirono Dal Fondo Del Lago Senza Che Niente Nessuno Putesse Evitarlo Reemersero Le Imagen De Quel Povero Lago Che Non Il 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 1968 Si Transformò Nel 64 E Nel 60 E Nel 56 E Si Transformò Anche Nel 70 E Nel 73 E Nel 75 Nel 76 Come Se Fosse Morta E Contemplasse Le Anni De Una Prospetiva Inedita Voglio Dire Mi Misi Pensare Al Il 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 Passato Come Se Pensasse Al Presente Al Futuro Al Passato Tutto Mischiato Assopito In Un 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 Uovo Tiepido Un Uovo Enorme Di Non So Qual Cielo Interiore Un Archeopteryx Al Riparo Di Un Nido De Macerie Fumante Mi misi a pensare, per esempio, ai denti che avevo perso, anche se in quel momento nel settembre del 68 avevo ancora tutti i miei denti, cosa che a ben guardare è piuttosto strana, ma quel che è certo è che pensai ai miei denti, ai quattro denti davanti che avrei perso negli anni a seguire perché non avevo soldi per andare dal dentista, non ho voglia di andare dal dentista, né il tempo. E fu curioso pensare ai miei denti perché da una parte me ne fregavo di non avere i quattro denti più importanti nella dentatura di una donna e dall'altra quella perdita mi feriva fin nel profondo del mio essere e la ferita bruciava, era seminecessaria e superflua, era assurda. Ancora oggi, quando ci penso, non capisco. Insomma, ho perso i denti in Messico, come avevo perso tante altre cose in Messico. E anche se di tanto in tanto i vostri amici o presunti tali mi dicevano, mettiti i denti Auxilio, faremo una colletta per comprarti una protesi Auxilio. Io ho sempre saputo che quel buco sarebbe rimasto lì fino alla fine nella carne viva e non le ascoltavo troppo, anche se nemmeno le dava una risposta del tutto negativa. E la perdita portò con sé una nuova abitudine. A partire d'allora, quando parlavo, quando ridevo, cominciai a coprimire la bocca sdentata con il palmo della mano. Un gesto che, come scoprì, più avanti non tardò a diventare popolare in determinati ambienti. Avevo perso i denti, ma non la discrezione, la riservatezza, un certo senso della eleganza. La imperatrice di Giapina, è noto, aveva delle enormi cari neri ai denti posteriori, ma questo non diminuiva di una virgola il suo fascino. Lei si copriva con un fasoletto o con un ventaglio. Io più terra a terra, abitante della città del Messico Alata e della città del Messico sotterranea, mi portavo il palmo della mano alle labbra e ridevo e parlavo liberamente nelle lunghe notti messicane. Il mio aspetto, per cui mi conosceva da poco, era quello di una conspiratrice o di un strano essere, metà sulamite e metà pepistrela al bino. a me non mi importava. C'è ausilio, dicevano i poeti, e io era là, seduta al tavolo di un romanciere con il delirium tremens o di un giornalista suicida, a ridere e a parlare, a confabulare e a raccontare pettegolezze. E nessuno poteva dire. Io ho visto la bocca ferita dell'uruguaiana. Io l'ho visto, le gengive nude dell'unica persona che è rimasta all'università quando sono entrate e riparte antissomostra nel settembre del 68. Potevano dire, ausilio parla come conspiratori, avvicinando la testa e coprendosi la bocca. Potevano dire, ausilio parla guardandoti negli occhi. Potevano dire e ridere nel dirlo. Ma come fai, ausilio? Benché abbia le mani occupate con libri e bicchieri di tequila, a portarsi sempre una mano alla bocca in quel modo peraltro spontaneo e naturale. Dove sta il segreto di quel suo prodigioso gioco di prestigio. Il segreto, amici miei, non voglio portarmelo nella tomba. Nella tomba non bisogna portarsi nulla. Il segreto sta nei nervi. Nei nervi che si tendono e si allungano per raggiungere i bordi della socciovolezza e dell'amore. I bordi spaventosamente affilate della socciovolezza e dell'amore. Io ho perso i denti sull'altare dei sacrifici umani. E me ne andavo barcollando per le strade di città del Messico, seguendo la mia ombra schiva, sola e in lacrime, sentendo quello che probabilmente poteva sentire l'ultima oruguaiana sulla Terra, anche se io non ero l'ultima, che presunzione. E i crateri illuminati da centinaia di lune che attraversavo non erano quelli della Terra, ma del Messico, che sembra la stessa cosa ma non lo è. E una volta sentì che qualcuno mi seguiva. Non so dove eravamo, forse in un bar nei dintorni della viglia o forse in qualche bettola del quartiere Guerrero, non mi ricordo. So solo che continuai a camminare, facendomi strada fra le macerie, senza prestare troppa attenzione ai passi che seguivano i miei passi finché di botto il sole notturno si spense. Smisi di piangere. Tornai alla realtà con un brivido e capì che chi mi seguiva desiderava la mia morte o la mia vita o le mie lacrime che aspergevano quella realtà odiosa come la nostra lingua così spesso avversa. E allora mi fermai e aspettai e i passi che seguivano i miei passi si fermarono e aspettarono. E io guardai le strade in cerca di qualche conoscente o conosciuto verso il quale correre, gridando per attaccarmi a suo braccio e chiedergli di accompagnarmi a una stazione della metropolitana o al primo taxi ma non vidi nessuno. O forse no. Qualcosa vidi. Chiusi gli occhi e poi aprì gli occhi e vidi le pareti coperte di piastrelle bianche del bagno delle donne al quarto piano. E poi chiusi gli occhi e senti il vento che spazzava il campus della facoltà di lettere e filosofia con una meticolosità degna di miglior causa e pensai così è la storia. Un breve racconto del terrore. E quando aprì gli occhi un'ombra si staccò dal muro sullo stesso marciapiede a una decina di metri e cominciò ad avanzare verso di me e io infilai la mano nella mia borsa che dico borsa nel mio zainetto e cercai il coltello quello che mi portavo sempre dietro in previsione di qualche catastrofe urbana ma le punte delle dita i polpastrelli in fiamme palparono solo carte e libri e riviste e persino biancheria intima pulita però il coltello no amici miei ecco un altro terrore ricorrente e mortalmente latino americano cercare la tua arma e non trovarla cercarla dove l'hai lasciata e non trovarla più è così che ci vanno le cose a noi è così che potevano andare a me ma quando l'ombra che voleva la mia morte e se non la mia morte almeno il mio dolore e la mia umiliazione cominciò ad avanzare verso l'androne dove mi ero nascosta spuntarono altre ombre da quella strada che si sarebbe potuta trasformare nella sintesi delle mie strade del terrore e mi chiamarono auxilio auxilio soccorro amparo carità remedios la couture dove ti sei cacciata e fra quelle voci che mi chiamavano riconobbi la voce del malinconico e intelligente con gli angomes e l'altra più ilare era quella di arturito belano pronto come sempre alla zuffa e allora l'ombra che cercava la mia afflizione si fermò si guardò alle spalle e poi ripresa ad avanzare e mi passò accanto un tipo come tanti un messicano uscito dal tartaro e insieme a lui passò una folata d'aria fresca e leggermente umida che evocava geometrie instabili che evocava solitudini schizofrenie e carneficine e quel perfetto figlio di puttana non mi guardò neppure poi andammo in centro e tutti e tre insieme julian gomez e arturito belano continuavano a parlare di poesia all'incrusicata vera crusana se unirono noi altri due o tre poeti o forse solo giornalisti o futuri insegnanti di liceo e tutti continuavano a parlare di poesia di nuova poesia ma io non parlavo io ascoltavo i battiti del mio cuore impressionata dall'ombra che mi era passata accanto e di cui non avevo fatto parola e non mi accorsi che il dialogo si trasformava in discussione e la discussione in grida e insulti poi ci cacciarono dal bar poi ci mettiamo a camminare per città del messico per le strade vuote delle 5 del mattino e a uno a uno ci disperdemmo ognuno a casa sua anch'io che in quel periodo stavo in un abbaino nel quartiere Roma Norte in Caglie Tabasco e siccome arturito belano viveva nel quartiere Juarez in Caglie Versalles ci avviamo insieme e a quell'ora della notte a dire il vero nessuno dei due era molto in vena di chiacchiere e pur parlando ogni tanto della lite del encruzicana vera crusana più che altro camminavamo e respiravamo come se all'alba l'aria di città del messico si fosse fatta più pura finché all'improvviso con la sua voce più spensierata arturito disse che si era preoccupato per me in quel buco di la viglia ergo era successo alla viglia e allora io gli chiesi perché e lui disse perché aveva visto anche lui angioletto mio l'ombra che seguiva la mia ombra e io tranquilla e serena lo guardai mi portai una mano alla bocca e gli dissi era l'ombra della morte allora lui rise perché non credeva all'ombra della morte ma la sua risata anche se scettica non fu affatto offensiva la sua risata era come dire che botta auxilio che brutta storia quell'ombra e io mi portai di nuovo la mano alla bocca e mi fermai e gli dissi se non fosse stato per te e per e per julian io adesso sarei morta e arturito mi ascoltò e poi ripresi a camminare e io ripresi a camminare a suo fianco così senza rendercene conto fermandoci a parlare o camminando in silenzio arrivamo al portone del palazzo dove vivevo e tutto finì lì poi nel 1973 lui decise di tornare in patria a fare la rivoluzione e io fui l'unica a parte la sua famiglia a salutarlo alla stazione dei pullman perché arturito belano partì via terra un viaggio lungo lunghissimo infestato di pericoli il viaggio iniziatico di tutti i poveri ragazzi latinoamericani attraversare questo continente assurdo che capiamo stento o che non capiamo per nulla e quando arturito si affacciò al finestrino del pullman per farci ciao con la mano non pianse solo sua madre pianse anch'io inspiegabilmente mi si riempirono gli occhi di lacrime come se quel ragazzo fosse anche figlio mio e temessi di non vederlo più quella notte dormì a casa della sua famiglia più che altro per tenere compagnia la madre e ricordo che parlammo fino a tardi di cose da donne anche se i miei argomenti di conversazione non sono esattamente quelli tipici delle donne parlamo dei figli che crescono e se ne vanno a giocare nel vasto mondo parlamo della vita dei figli che si separano dai loro genitori e vanno in cerca dell'ignoto nel vasto mondo poi parlamo del vasto mondo in sé e per sé un vasto mondo che per noi in realtà non era così vasto e poi la mamma di arturo mi fece i tarocchi e mi li lesse e disse che la mia vita sarebbe cambiata e io dissi che bello guarda non sai quanto mi farebbe bene un cambiamento adesso e poi preparai il caffè non so che ora fosse ma era molto tardi e dovevamo essere tutte e due stanche anche se non lo lasciavamo trasparire e quando tornai in salotto trovai la madre di arturo che si faceva le carte da sola su un tavolinetto basso che c'era lì e senza dire nulla rimasi un momento osservarla se ne stava seduta sul divano con un'aria concentrata sul viso mentre le sue mani piccole spostavano le carte come se fossero staccate dal corpo si stava facendo i tarocchi da sola me ne accorsi subito e quello che usciva sulle carte era terribile ma non era questa la cosa più importante l'importante era qualcosa un po più difficile da afferrare l'importante era che mi aspettava sola l'importante era che non aveva paura quella sera mi sarebbe piaciuto essere più intelligente di quello che sono mi sarebbe piaciuto essere capace di consolarla invece l'unica cosa che riuscì a fare fu portarle il caffè e dirle di non preoccuparsi che sarebbe andato tutto bene la mattina dopo me ne andai anche se in quel periodo non avevo un posto dove andare tranne la facoltà e i bar e i caffè e le bettole di sempre ma me ne andai lo stesso non mi piace abusare allora perché 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 dove qui vino 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 no 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 vi vivi 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 solo a eso vino a saber quién era Si era sol o era luna o si sol y luna era, la luna no sería luna. Si luz de él sol no tuviera y por amor a la luna se enciende el sol en la espera. Que amor mueve sol y luna y amor mueve alas, estrellas. Credo che fosse importante, che fosse bello che voi conosceste almeno una poesia di Alsira. Quella che avete visto è una poesia visiva, un calligramma, che ha sullo sfondo uno dei suoi cartelloni murales. Vi leggo una traduzione in italiano di servizio, è molto difficile da restituire. Intanto si intitola Ciarrua, che come avete sentito è il modo in cui certi uruguayani chiamano se stessi. I Ciarrua erano l'etnia indigena che abitava l'attuale Uruguay e sono stati esterminati. Ciarrua. Per quale ragione, per quale scopo, è venuta da dove è venuta? È venuta solo per questo, per sapere chi era. Se era sole o se era luna, o se era sole e luna. La luna non sarebbe luna se non avesse la luce del sole, ed è per amore della luna che il sole si accende in attesa. Perché è l'amore che muove sole e luna, è l'amore che muove le stelle. Avrete riconosciuto la chiusa del paradiso di Dante, no? L'amore che muove il sole e le altre stelle, che al si rarricchisce con un gioco di parole grafico. Quando dice, è l'amore che muove alle stelle, in spagnolo alas, prende il significato di ali, polisemico. È evidente l'influenza dei poeti maledetti, che sono nomi tutelari anche di Bolagno, che sceglie il nome Arturo proprio come omaggio a Rambo e per il suo alter ego letterario Arturo Belano. Si coglie qualcosa dei surrealisti francesi, già alla forma del calligramma. Si coglie l'influenza di Neruda, che nel 68 è un po' il nome tutelare degli intellettuali di sinistra. Fra l'altro, Alcira lo conoscerà personalmente durante un viaggio di Neruda a Città del Messico. E ora, mi perdonerete, prima che lasci spazio alle parole di Auxilio Lacutur, mi perdonerete per una nota personale. Come forse sapete ho tradotto vari libri di Roberto Bolagno, ho tradotto 15 libri per la precisione, l'ultimo, l'Università sconosciuta, la Somma della poesia uscirà fra poco. Questo vuol dire davvero tanto tempo, anni passati dentro quelle pagine, dalla mattina a sera. E come traduttrice ho spesso cercato di far combaciare letteratura e realtà. Sono andata sulle orme di Bolagno. Per esempio, ho seguito la baronessa Fonzumpe, che è una delle protagoniste femminili dell'altro suo capolavoro, oltre ai detective selvaggi, cioè 2666, a Venezia. Sulla strada che dall'hotel Danieli, dove lei nel romanzo alloggia, attraversa Lista di Spagna, Ponte Guglia, Fondamenta della Pescaria, Calle del Ghetto Vecchio, Campo del Ghetto Nuovo e Fondamenta degli Ormesini, fino a Calle Turlona, nel quartiere di Cannaregio, dove va a trovare lo scrittore giardiniere Arcimboldi, per fare l'amore con lui e poi affacciarsi insieme, nudi, alla finestra, sul canale, a guardare nevicare su Venezia. Così, anche nel 2010, sono andata a Città del Messico e ho fatto un lungo pellegrinaggio. Mi sono seduta su una panchina dell'Alameda, che è questo grande parco del DF, vicino al Palazzo de Beglia Sartes, dove si sedeva nelle opere di Bolagno il Verme e il Gusano, il killer di Villavisciosa delle poesie e dei racconti. E sono andata, naturalmente, anche in quei bagni al secondo piano della Facoltà di Lettere e Filosofia della UNAM, a rendere omaggio ad Alsira, ad Auxilio, a Bolagno. Non restava più molta traccia dei bagni di allora, perché le ristrutturazioni moderne possono essere più violente e delle devastazioni di 10.000 soldati. Mi piace, però, pensare che in qualche modo Alsira, a Auxilio, era lì con me. E del resto, come direi, lo dicono anche i fisici, che il tempo non esiste, che tutto avviene contemporaneamente, che il calendario serve solo a noi uomini per non impazzire. Più tardi, la sera, ho bevuto un caffè con Lecce al Caffè La Havana, in Caglie Bucareli, dove Alsira, a Auxilio, incontrava Bolagno e gli infrarrealisti realvisceralisti. Un locale molto grande, pieno di vetrate, che è anche una rinomata torrefazione. E gli amici di Bolagno, negli ultimi anni di vita di Bolagno, che è mancato giovane, a 50 anni, quando era ormai molto malato, gli portavano un pacchettino di quel caffè. Lui non poteva più berlo, ma era una Madeleine, e quindi si accontentava di annusarlo. E infine, dopo il Caffè La Havana, ho seguito Auxilio fuori dal caffè, mentre a sua volta seguiva Arturo e l'amico di Arturo Ernesto. E li ho visti camminare con passo leggero da Caglie Bucareli a Reforma, e poi li ho visti attraversare Reforma senza aspettare il verde, con i capelli lunghi, scarmigliati, perché a quell'ora, come scrive Bolagno, su Reforma soffia il vento notturno che è rimasto alla sera. E il viale si trasforma in un tubo trasparente, in un polmone cuneiforme da cui passano i respiri immaginari della città. E poi li ho visti imboccare Avenida Guerrero, al Sira con l'aria un po' depressa, perché la Guerrera a quell'ora sembra un cimitero, ma non un cimitero del 74, né un cimitero del 68, né un cimitero del 75, ma un cimitero del 2666. Un cimitero dimenticato sotto una palpebra morta o mai nata, scrive Bolagno. Le acquosità spassionate di un occhio, che per dimenticare qualcosa ha finito per dimenticare tutto. Per fortuna noi non dimentichiamo, perché Bolagno ci ha lasciato questa muleto. Grazie. Alt, dissi, ora ricordo, dissi. L'aria era refatta dal volo di migliaia di insetti, si schiarì. Coffin mi guardava. Io guardavo un aeroporto dove non c'erano aerei, né persone, solo hangar senza ombre e piste d'atterraggio, perché da quell'aeroporto partivano solo sogni e visioni. Era l'aeroporto degli ubriachi e dei drogati. E poi l'aeroporto svanì e al suo posto vidi gli occhi di Coffin, che mi domandavano cos'è che mi ero ricordata. E io dissi nulla, nulla, vaneggiamenti, idee mie. Feci per alzarmi, perché a quel punto avevo deciso che era davvero ora di smetterla, ma Coffin mi posò una mano sulla spalla e mi trattenne. Che sia fatta la tua volontà, pensai. Io non sono una donna religiosa, ma fu questo che pensai. E pensai anche, non vedrò la luce del nuovo giorno, che detto così suona piuttosto pacchiano, ma che, pensato in quel momento, suonava come il portico del mistero o qualcosa del genere. E, stranamente, non provai paura, ma sollievo. Come se il fatto di rendermi conto di colpo di cosa mi era sfuggito nella storia di Erigone mi avesse anestetizzato. E anche se il salotto di Lilian Serpas non somigliava per nulla a una sala operatoria, mi sentì come se mi stessero portando in sala operatoria. Pensai, sono nel bagno delle donne della facoltà di lettere e filosofia e sono l'ultima persona rimasta. Andavo verso la sala operatoria, andavo verso il parto della storia e poi pensai, perché non sono scema, è finita. I reparti antisommossa se ne sono andati dall'università, gli studenti sono morti a Tlatelolco, l'università ha riaperto i battenti, ma io sono rimasta qui, rinchiusa nel bagno del quarto piano, come se a furia di graffiare le piastrelle illuminate dalla luna avesse aperto una porta che non è il portico della tristezza nel continuum del tempo. Se ne sono andati tutti, tranne me. Sono tornati tutti, tranne me. La seconda affermazione era difficile da accettare perché la verità è che non vedevo nessuno e se tutti fossero tornati li avrei visti. In realtà, se mi sforzavo, l'unica cosa che riuscivo a vedere erano gli occhi di Carlos Coffin Serpas, ma la vaga certezza era ancora lì, mentre la mia barella correva nel corridoio, un corridoio verde bosco e a tratti verde mimetico, militare, a tratti verde bottiglia di vino, verso una sala operatoria che si dilatava nel tempo mentre la storia annunciava, urlando a squarciagola il suo parto, e i suoi medici annunciavano sussurrando la mia anemia. Ma come si fa a operarsi di anemia? Pensavo io. Avrò un figlio, dottore? Sussurravo facendo uno sforzo immenso. I medici mi guardavano dall'alto con le loro verdi mascherine da banditi e dicevano di no, mentre la barella andava sempre più veloce in un corridoio che serpeggiava come una vena fuori dal corpo. Davvero? Non sto per avere un figlio? Non sono incinta? Chiedevo. I medici mi guardavano e dicevano no, signora, la portiamo solo ad assistere al parto della storia. Ma perché tanta fretta, dottore? Mi viene il mal di mare, dicevo. I medici rispondevano con la stessa solfa con cui si risponde a chi è in agonia. Perché il parto della storia non aspetta, perché se arriviamo tardi non vedrà più niente, solo fumo e rovine, un paesaggio vuoto e tornerà a essere sola per sempre, anche se esce ogni sera a ubriacarsi con i suoi amici poeti. Allora sbreghiamoci, dicevo io. L'anestesia mi dava alla testa come a volte mi dà alla testa la nostalgia e smettevo per il momento di fare domande. Fissavo il soffitto e sentivo solo il rumore delle ruote di gomma della barella e le grida in sordina di altri malati, di altre vittime del pento talsodico. E sentivo persino un lieve e confortevole calduccio che risaliva lentamente le mie lunghe ossa gelate. Quando arrivamo in sala operatoria, la visione si appannò e poi si ruppe e poi cadde e si frantumò e poi un fulmine polverizzò i frantumi e poi il vento si portò via la polvere in mezzo al nulla o a città del Messico. Era ora di aprire di nuovo gli occhi e dire qualcosa, qualunque cosa fosse, a Carlos Coffin Serpas e quello che gli dissi fu che ormai era tardi e che dovevo andare e Coffin mi guardò come se anche lui avesse visto qualcosa che di norma si vede solo nei sogni e si allontanò bruscamente. «Tua madre arriverà domattina», dissi. «Va bene», disse Coffin, senza guardarmi. Mi accompagnò alla porta. Mentre scendevo la prima rampa di scale mi voltai. Lui era ancora lì, sul pianerottolo, con la porta aperta, a guardarmi. Mi coprì la bocca con la mano e iniziai a dirgli qualcosa, ma all'improvviso mi resi conto che stavo pronunciando solo sillabe incoerenti. Fu come se di colpo mi fossi rimbambita e così rimasi a guardarlo con la mano sulla bocca ma senza riuscire a dirgli nulla finché Coffin, con un gesto in cui era lecito scorgere paura e stanchezza in parti uguali, chiuse la porta. Per qualche secondo rimasi immobile. Pensavo. Poi la luce delle scale si spense e cominciai a scendere piano, al buio, senza lasciare il corrimano. In Avenida Bolivar prese un taxi. Mentre ci dirigevamo verso il mio abbaino mi mise a piangere. Il tassista mi guardò con la coda dell'occhio. Sembrava niguana. Credo che abbia pensato che ero una puttana e che avevo avuto una brutta serata. non piangere bionda mi disse non ne vale la pena vedrai che domani vedi tutto in maniera diversa. Non faccio il filosofo gli risposi e guidi con prudenza. Quando scesi avevo gli occhi asciutti. Mi preparai un tè e mi misi a leggere sdraiata sul letto. Non ricordo cosa lessi. Di sicuro non Pedro Garfias. Alla fine posai il libro e finiti bermitte al buio. Poi spuntò ancora una volta l'alba nella capitale del Messico. lì vedi. Era troppo lontana per scordare il volto. Ma lì vedi. Non sei se erano giovani in carne, ossa o fantasmi. Ma li vidi. Probabilmente erano fantasmi. Ma camminavano e non volavano come para che facciamo i fantasmi. Così può darsi che non fossero fantasmi. Capì anche che pur camminando insieme non costituivano quella che abitualmente se chiama una massa. I loro destini non erano legati a un'idea comune. Le univano solo la generosità e il coraggio. Ipotizzai con i palmi delle mani sulle guanci che anche loro avessero vagato per le montagne nevate e che poi si fossero pian piano incontrate e avessero camminato assieme fino a formarli l'esercito che ora avanzava sul prato. Loro da una parte e io dall'altra. Abolite le leggi della fisica. Vi dite le vete alpini come un specchio a due lati. Da un lato dello specchio era uscita io e dell'altro erano uscite loro. Camminavano verso l'abisso. Credo di averlo capito non appena li vidi. Ombra o massa dei bambini camminavano inossorabilmente verso l'abisso. Dopodiché sentì un mormorio che l'aria fredda del tramonto nella valle levava in alto verso le pendite e i picchi e rimasì stupefata. Stavano cantando. I bambini e giovani cantavano e si direggiavano verso l'abisso. Mi portai una mano alla bocca come se volesse soffocare un grido e allungai l'altra le dita tremante tese come se potesse toccarli. La mia mente cercò di ricordare un testo che parlava di bambini che andavano in guerra intonando canzoni ma non si riusci avevo la mente sotto sopra dopo la attraversata nella leve mi ero trasformata in sola pelle. Forse era sempre stata così non sono una donna molto intelligente. Allungai tutte e due le mani come se chiedessi al cielo di poterli abbracciare e gritai ma il mio grido si è perso sulle alture dove ancora mi trovavo e non raggiungesse la valle. Magra rugosa gravemente ferita con la mente sanguinante e occhi pieni di lacrima cercai gli uccelli come se poveretti avessero potuto aiutarmi in quella ora in cui il mondo intero si spegneva. il ramo era deserto. Supposi che gli uccelli fossero un simbolo e che in questa parte della storia tutto fosse semplice e facile. Supposi che gli uccelli fossero l'emblema dei ragazzi. Non so cos'altro supposi lì li senti cantare li sento cantare ancora adesso che non sono più nella valle piano 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 appena un mormorio quasi imperseptibile i bambini più belli dell'America latina i bambini denutriti e quelli ben nutriti quelli che avevano avuto tutto e quelli che non avevano avuto niente che canto meraviglioso usciva dalla loro labbra che meraviglia anche loro che bellezza benché stessero marciando spalla e spalla verso la morte li senti cantare e diventai pazza li senti cantare e non potrei fare niente per fermarli era troppo lontana e non avevo la forza di scendere a valle di mettermi in mezzo al prato e dir loro di fermarsi perché stavano marciando verso una morte certa l'unica cosa che potrei fare fu alzarmi in pied tremante e ascoltare fino all'ultimo sospiro il loro canto ascoltare sempre il loro canto perché loro vennero inottiti dell'abisso ma il canto rimase nell'area della valle nella foschia della valle che al tramonto risaliva le penditi e le vette così i ragazzi fantasma attraversarono la valle e precipitarono nell'abisso un passaggio breve e nelle mie orecchie il loro canto fantasma o l'eco del loro canto fantasma che è come dire l'eco del nulla continuò a marciare a loro stesso passo che era il passo del coraggio e della generosità una canzone appena perceptibile un canto di guerra e di amore perché quei bambini andavano senza dubbio in guerra ma lo facevano ricordando gesti teatrali e sovrani dell'amore che genere di amore potevano aver conosciuto pensai quando la valle rimasse vuota e solo il loro canto continuava a risuonarmi nelle orecchie l'amore per i loro genitori l'amore per i loro cani i loro gati l'amore per i loro giocattoli ma soprattutto l'amore che avevano l'uno per l'altro il desiderio e il piacere e anche se il canto che ascoltavo parlava della guerra delle imprese eroiche di un'intera generazione di giovani latinoamericani sacrificati io capì che al di là di tutto parlava del coraggio e degli specchi del desiderio e del piacere e quel canto è il nostro amuleto grazie